Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura andiamo a Pescara in via Lago di Borgiano dove alcuni inquilini delle palazzine Ater sgomberate alcune settimane fa hanno denunciato furti nei loro appartamenti. Questa mattina sono entrati autorizzati nelle case per ritirare alcuni capi di abbigliamento ed hanno fatto la mala scoperta. Vediamo il servizio di Paolo Renzetti. Lei è un inquilino dello stabile qui di via Lago di Borgiano. Vi siete accorti proprio questa mattina che i gnoti erano entrati nelle vostre case nonostante l'ingresso sia stato murato dopo gli sgomberi e hanno portato via mobilio, oggetti, elettrodomestiche? Sì, stamattina c'erano dei trasloghi autorizzati e si doveva rompere il muro e noi con l'occasione volevamo prendere qualche oggetto invernale, visto che non ne avevamo. Allora eravamo sotto casa, però quando hanno rotto il muro e siamo entrati dentro abbiamo visto la magra scoperta. Porte rotte e appartamenti sotto quadro, di cui anche il mio, dove sono stati asportati oggetti di valore, televisione, elettrodomestici, tavoli, cose, robe e varie. In più, biancheria, è rovistato tutti gli oggetti personali. Cose di valore che avevate in casa e che non eravate riusciti a portare via nell'imminenza dello sgombero però? Sì, tutta roba inventariata con un verbale di riconsegna all'Ater, dove garantivano la messa in sicurezza di questi beni, la tutela di questi beni. Ciò che non è avvenuto. Questa mattina è venuta anche la polizia, qui gli agenti della polizia di Stato, a vedere quello che era accaduto? Sì, sì, sotto un'altra richiesta è venuta una pattuglia della volante che ha fatto un sopralluogo su tutti e tre gli stabili e ha verificato tutto quello che è mancato. Giustamente adesso si dovrà fare un inventario perché a occhio e croce poi bisognerà stabilire che cosa ha portato via. Quanti sono stati più o meno, che lei sappia, gli appartamenti che sono stati oggetto di questi furti? Faccio prima dire quali non sono stati oggetti, di cui 5 e 6, che avevano delle porte un po' blindate e non sono riuscite a entrare. Su 80 appartamenti ne avranno salvati sia non una diecina più o meno. Parliamo di quale civico di Via Lago di Poggiaro? Di tutte e tre i civici, sia del numero 14, del numero 18 che del 22. Adesso cambiamo argomento e ci occupiamo di economia. Confeser Centi con il focus del rapporto Abruzzo 2007-2017 ha presentato oggi dati inediti sulla evoluzione del tessuto economico regionale negli anni della recessione economica. Crescono le attività del food e della ristorazione ma in generale c'è un calo dei consumi. Sentiamo. Com'è cambiato l'Abruzzo negli ultimi dieci anni? Dieci anni di recessione economica? Intanto abbiamo visto che ha avuto un grande flusso in avanti le attività del food, ristorazione, bar, tavole calde, che hanno avuto un incremento del 16%, quindi con una tendenza al nazionale, quindi è stato un grande aumento. Purtroppo non è stato così per le altre attività. Abbiamo avuto un grosso decremento, ci sono ancora oggi purtroppo delle problematiche, di grandi chiusure nei centri città. Un'altra grande problematica è stata anche il consumo, cioè la forza del consumo delle famiglie che è sceso tantissimo, quindi oggi si va su acquisti mirati e specializzati soprattutto. Stiamo vedendo una timida ripresa, ovviamente con tendenze variate dal dieci anni fa, cioè come diciamo poco anzi la ripresa c'è stata e trainata soprattutto dal settore food, non c'è, anzi continua proprio nel settore del manufatturiero, dei mobili, del non food diciamo, e quindi bisogna un attimino anche le proprie attività variarle in base all'andamento del mercato. C'è una grande occasione, perché io la dico così, è una grande occasione del web, dove dieci anni fa quando non era quasi presente, oggi purtroppo o per fortuna è presente e ce l'abbiamo tra noi tutti i giorni, quindi è qui che la piccola attività deve oggi cercare di andare, quindi unendosi, specializzandosi, creando un'unica piattaforma e iniziare anche questo tipo di vendita che rappresenta ad oggi un gran numero per le nostre attività. Ora ci spostiamo nel capoluogo di regione all'Aquila, è diventato un caso politico la presunta apertura di un nuovo centro per migranti e mentre la prefettura smentisce categoricamente con tanto di comunicato, prima di parlare nessuno si è preoccupato di andare a verificare. Sentiamo insieme il servizio della redazione aquilana. Il comunicato stampa di ieri della prefettura che annunciava che a Sant'Elia, frazione dell'Aquila, nessuna struttura per migranti sarebbe stata aperta, ha fatto gridare alla bufala. Mentre in città già si facevano assemblee raccolte firme, la prefettura ha smentito categoricamente la notizia, notizia per la quale un po' tutti si sono scomodati a partire dalla politica, due parole dalla prefettura per smentire le voci che ormai da giorni avevano già sollevato un polverone. Il centro migranti, secondo le voci del popolo, avrebbe dovuto sorgere nell'ex albergo Villa delle Rose a Sant'Elia, ma le notizie sono iniziate a rimbalzare, mentre nessuno si è preoccupato di verificare la fondatezza e così, come dicevamo, la gente ha alzato le barricate e anche la politica ha iniziato a scrivere. In realtà, bufala o non bufala, non importa poco, un sopralluogo nella struttura c'è stato, circa tre mesi fa, da parte del Movimento Celestiniano, che ad oggi accoglie 137 persone. Il Movimento Celestiniano, in pratica, avrebbe dovuto spostare a Sant'Elia le persone che oggi si trovano in Via Paolucci, dunque non una nuova apertura, solo uno spostamento, in un'ottica di miglioramento delle persone affidate al centro, ma fanno sapere dal centro, subito l'ipotesi fu scartata dopo aver ascoltato la gente, e questo tre mesi fa, ma nessuno si è preoccupato di sapere. Il Movimento Celestiniano, ad oggi lo ricordiamo, ospita 100 persone in Via Roma, 25 in Via Paolucci e 12 in una villetta dietro le Exompi. Pochi sono i richiedenti asilo, un 60-70% sono qui per motivi umanitari, e noi non possiamo lasciarli in strada, dice il Movimento. In un momento storico in cui spesso sono proprio i primi cittadini delle città, a dire di non avere più la forza di ospitare nessuno, facciamo un po' di conti. In provincia dell'Aquila sono ospitati circa 600 richiedenti asilo, con i nuovi avvisi della Prefettura si potrebbe arrivare a 1200. Ora andiamo a Teramo, saluto ufficiale del nuovo comandante provinciale dei Carabinieri, Giorgio Naselli, e del nuovo comandante del reparto operativo, Luigi Delle Grazie. Naselli arriva dalla Legione Calabria, mente Delle Grazie da Ascoli Piceno. Sentiamo Tania Bonici Castelli. Incontro cordiale è quello che il nuovo comandante provinciale dei Carabinieri di Teramo, tenente colonnello Giorgio Naselli, ha avuto con la stampa teramana, nella storica sede del comando dell'arma a Piazza del Carmine. 50 anni, appena compiuti, sposato con quattro figli, Naselli arriva a Teramo dopo una serie di incarichi importanti. Terminata l'Accademia di Modena, la sua prima sede è Bari, poi Bagaria in Sicilia, Nucleo Operativo di Mantova, base nato a Napoli, Manfredonia, Catanzaro e Legione Calabria. Un cognome conosciuto il suo in provincia, visto che il fratello Giovanni ha comandato la compagnia di Giulianova dal 2003 al 2005. Giorgio Naselli ha sostituito il colonnello Pier Vittorio Romano, promosso a capo di Stato Maggiore e trasferitosi a Chieti. Con Naselli arriva anche un nuovo comandante del reparto operativo Carabinieri di Teramo e il tenente colonnello Luigi Delegrazie. Anche lui, molto conosciuto sul territorio, poiché già comandante della compagnia di Giulianova e per gli ultimi tre anni alla guida del reparto operativo di Ascoli Piceno. Durante l'incontro si è parlato della preziosa collaborazione con la stampa locale al fine di raggiungere una sempre migliore comunicazione tra forze dell'ordine e organi di informazione. Andiamo avanti con una notizia di cronaca. Un arresto per droga ai carabinieri della compagnia dell'Aquila hanno sorpreso un 49enne a spacciare due dosi di eroina. Un altro stupefacente gli è stato invece trovato in casa. Ora l'uomo è ai domiciliari. Sorpreso a spacciare due dosi di eroina, i carabinieri della compagnia dell'Aquila, coordinati dal capitano Francesco Nacca, lo arrestano. responsabile un uomo di 49 anni, originario di Roma ma residente all'Aquila ormai da diversi anni, già noto alle forze dell'ordine per reate riguardanti le sostanze stupefacenti. Già da diversi giorni i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile lo tenevano d'occhio. In realtà la sua presenza, infatti, era stata segnalata dagli avventori di un locale pubblico, tra Bazzano e Poggio Picenzi ai militari. Dopo la segnalazione, i carabinieri lo hanno pedinato e controllato per giorni, fino a ieri, quando è stato sorpreso nella sua vettura, accanto ad un altro automobile con un uomo a bordo, intento a scambiarsi un involucro con del denaro, prima di allontanarsi in fretta e furia. Alcuni carabinieri hanno fermato subito il cliente, che si era appartato intanto in una piazzola di sosta per consumare subito lo stupefacente appena comperato, mentre gli altri carabinieri hanno fermato lo spacciatore e successivamente hanno perquisito anche la sua abitazione. Nel totale i carabinieri gli hanno trovato un bilancino di precisione e 7 grammi di eroina ed è stato posto ai domiciliari. Questa attività rientra nell'ambito dei servizi più ampi e svolti dai carabinieri dell'Aquila per il contrasto ai reati afferenti degli stupefacenti, che come ormai da qualche anno a questa parte vedono sempre più tornare ad incrementarsi i consumi di eroina, il cui uso era molto maggiore negli anni 70-80. Torniamo adesso a Pescara, ma cambiamo argomento per occuparci della pineta d'Annunziana Alcune associazioni ambientaliste denunciano che da 16 anni dalla istituzione dell'area protetta della riserva d'Annunziana non è stato ancora approvato il piano di assetto naturalistico con gravi danni per l'area sud di Pescara, recentemente interessata anche da un incendio proprio all'interno della riserva. Vediamo insieme il servizio. Si parla di una svolta vera e condivisa per quanto riguarda la gestione del verde urbano e della riserva d'Annunziana di Pescara de Collibus. Noi abbiamo formulato una serie di richieste che abbiamo allegato agli atti e sono numerose. Innanzitutto il controllo urbanistico, perché vediamo che ci sono rischi, vediamo progetti strani che non potrebbero essere attuati in quella zona particolarmente protetta dal piano regolatore. Vogliamo che sia ricostituita la fascia naturalistica come prevede il piano regolatore della spiaggia per ricostituire la fascia naturalistica dove il giglio, il cosiddetto Danunziano, possa tornare a rifiorire. Vogliamo che si sia una vera politica per il verde e soprattutto che venga attuato il regolamento per il verde pubblico e il comune di Pescara. La pienetà d'Annunziana è una riserva naturale. Che significa che riserva naturale? Significa che ci sono dei valori non più presenti altrove, di specie botaniche, di ecosistemi, di tale importanza anche per le generazioni future da essere meritevoli di conservazione. Lo strumento fondamentale della conservazione è il piano di assetto naturalistico. Questo piano disciplina dove la gente può andare, portare i bambini, divertirsi, quindi la fruizione, chiaramente compatibile, delle aree cuscinetto e le zone da tutelare dove è possibile ammirare delle stupende essenze vegetali non più presenti altrove. In assenza di questo piano, la gente che va, calpesta dovunque, estirpa dovunque, portano animali che inconsapevolmente fanno danni e soprattutto i fondi che vengono dalla regione destinati alle riserve, in assenza di una pianificazione, di un'idea appunto del piano, finiscono sempre per interventi molto discutibili e talvolta addirittura distruttivi. Praticamente il comune, intendendo per comune l'istituzione, non approva un piano che doveva essere approvato nel 2001, quindi 16 anni fa. Io sono stato il coordinatore di uno degli ultimi piani che è stato approvato in giunta come presadatto nel 2000, non si riesce a capire per quale motivo, se per incapacità, se per pressioni, interessi, non si riesce ad approvare questo piano. Nel frattempo la Pineta sta in uno stato di degrado incredibile. All'Aquila l'agente plaude alla decisione del neosindaco Biondi che dimezza il suo staff per tagliare le spese e proroga il contratto di 10 operai. Una decisione già assunta che ora andrà ratificata all'interno del Consiglio Comunale. Staff dimezzato per pagare gli operai. La decisione è del neosindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, una mossa che serve ad avere la copertura finanziaria per prorogare sino ad ottobre i contratti in scadenza di 10 operai. Una variazione di bilancio in sostanza che riduce il budget per i collaboratori di sindaco e giunta usando il risparmio di oltre 37 mila euro per rinnovare il contratto di alcuni operai comunali indispensabili per le attività dell'amministrazione. Una decisione che ovviamente andrà ratificata in Consiglio. Nello staff che aveva iniziato a lavorare intanto c'è già qualche novità. A posto di Beatrice Di Marco che ha optato per un altro impiego ci sarà Maria Laura Carducci ex collaboratrice di Abruzzo 24 Ore TV. Tra i collaboratori figura anche Antonio Latorre ex presidente del Cus Regbi che a titolo assolutamente gratuito sta collaborando con il vice sindaco Liris. Nell'ufficio del sindaco anche Daniele Placidi responsabile dell'area comunicazione, programmazione e monitoraggio dell'ufficio speciale per la ricostruzione dell'Aquila. Nello staff ovviamente anche Alessia Di Giovacchino che assieme ad altri ha portato avanti la campagna elettorale di Pierluigi Biondi. Tutti questi si aggiungono ai già noti Andrea Di Biase, capo di gabinetto, Daniela Ianni, collaboratrice del responsabile della segreteria, Giorgio Alessandri, portavoce del primo cittadino, Gianluca D'Ercole, addetto alla segreteria degli assessori. Le reazioni politiche alla decisione di Biondi di risparmiare sullo staff non si sono fatte attendere. Su tutte, quella del vice presidente del Consiglio Comunale Ersilia Lancia, un sindaco di destra dice che taglia le spese per lo staff e assume gli operai. Torniamo invece a Teramo, continua, cruenta la guerra delle stagioni teatrali. Il gestore unico del teatro comunale Abruzzo Circuito Spettacolo non concederà alcune delle date richieste dal comune a favore della Ricitelli perché occupate dalla propria programmazione. Il comune reagisce, diffida la CS a rispettare gli atti di giunta. Vediamo. La guerra delle stagioni teatrali a Teramo si sta combattendo a suon di carte bollate e di fide. Il comune ne ha appena inviata una da Abruzzo Circuito Spettacolo al giudicatario unico del bando per la gestione del teatro comunale intimandogli di concedere 15 date gratuite alla Primo Ricitelli per la sua stagione di prosa. Sindaco, come andrà a finire questa guerra del teatro? Davvero quando si tratta di cultura non ci dovrebbero essere guerre. La presa di posizione della CS non ha spiegazioni. C'è una delibera di giunta e va rispettata. La CS è stata diffidata a rispettare la delibera di giunta perché la delibera di giunta è un atto amministrativo dell'ente proprietario dell'immobile. È previsto nella convenzione che ci siano giornate gratuite per il comune ed è previsto nella convenzione che le giornate gratuite il comune le utilizzi a proprio uso e consumo. La Ricitelli fa parte del nostro patrimonio culturale da sempre e quindi io ritengo che la Ricitelli debba fare la stagione. Secondo lei non è giusto che la Ricitelli possa contribuire economicamente anche al mantenimento del teatro comunale visto che ci fa una stagione di prosa? Assolutamente sì. Io avevo già detto ai responsabili della CS che il comune era pronto a non dare nemmeno una giornata gratuita alla Ricitelli in modo che la Ricitelli avrebbe pagato le preve giornate e avrebbe contribuito al mantenimento del cineteatro. La risposta di Abruzzo circuito spettacolo non si fa attendere. Il presidente Federico Fiorenza ribadisce che alcune delle giornate richieste dal comune per la Ricitelli non sono disponibili perché occupate dalla programmazione di ACS programmazione che è stata a suo tempo consegnata al comune stesso e che parte integrante del progetto vincitore del bando e dunque obbligo contrattuale tra le parti. Nelle menze delle scuole comunali di Pescara arriva pasta di grano italiano. Lo ha detto l'assessore Giacomo Cuzzi che ha definito infondato l'allarmismo lanciato dal Movimento 5 Stelle sull'utilizzo di grani provenienti dall'estero. Cuzzi ha anche detto che la qualità del servizio è migliorata nonostante i risparmi per l'ente. Noi diciamo che in questi tre anni abbiamo avviato una riforma importante per quanto riguarda il servizio di menze scolastiche nella città. Una riforma che ha portato a un nuovo appalto con un capitolato che certifica e pone in essere la qualità dei prodotti serviti a mensa oltre che a una serie di risparmi circa un milione di euro l'anno per l'ente comunale. Qualche giorno fa si è diffusa una notizia che noi dalle indagini fatte interne riteniamo falsa e infondata cioè quello per cui il grano della pasta fornita delle menze scolastiche si ritiene essere non di provenienza italiana. Noi smentiamo categoricamente questa notizia è ingiustificato fare allarmismo su queste vicende una considerazione anche di carattere politica non si fa politica facendo allarmismo e soprattutto su quello che è il patrimonio più importante della nostra città cioè i nostri ragazzi che ogni giorno frequentano le nostre scuole che vanno a mensa. Rispediamo al mittente queste accuse quello che hanno detto i 5 Stelle è totalmente infondato e questo è un dato che ci dispiace perché la polemica politica poi deve avere anche un limite il limite della fondatezza cioè non si possono sparare balle perdonatemi e passatemi il termine senza avere la documentazione dei fatti noi siamo a disposizione anche abbiamo letto che ci sono ci sarebbero delle indagini in corso non ne siamo al corrente ma siamo a disposizione per mettere alla luce appunto questa realtà documentale che è risultata dalle indagini degli uffici adesso ci spostiamo a Roseto degli Abruzzi dove è stata chiusa la fase di sperimentazione dei parcheggi a pagamento nella zona mare l'amministrazione ha stilato un bilancio della iniziativa pensando anche al futuro magari di replicarla nella prossima estate sentiamo insieme il servizio con la fine della stagione estiva è terminato anche il periodo di sperimentazione dei parcheggi a pagamento a Roseto degli Abruzzi nella zona mare da sabato 16 settembre infatti è tornata la sosta libera in alcune aree quali quelli del parcheggio adiacente al pontile a Residence Felicioni in Viale Roma e via Cristoforo Colombo resterà invece fino al 31 dicembre la sosta a pagamento in via nazionale lato est nel parcheggio adiacente la stazione ferroviaria in quello adiacente il condominio e il mosaico su via Adriatica in piazza della Repubblica a Raso l'amministrazione si dice soddisfatta dei risultati raggiunti mentre la maggioranza sta già affrontando la discussione sul futuro di questa importante decisione oltre 70.000 autovetture che si sono alternate nei mille stalli che l'amministrazione ha deciso di mettere a pagamento per quest'estate picchi massimi si sono raggiunti nelle giornate del giovedì e del sabato con orari di punta che sono le 11 di mattina e le 18 di sera siamo all'incirca sulle 134.000 euro di incasso come somma totale tra abbonamenti carte di credito e monete e easy park cioè l'applicazione tramite telefonino che permette il pagamento della sosta in qualsiasi ora in qualsiasi luogo ridurremo l'orario a pagamento passando dalle 9 all'una di notte alle 9 alle 8 di sera alle 20 di sera cioè l'orario sostanzialmente di apertura delle attività commerciali che poi sono quelle che hanno beneficiato di questa novità che abbiamo introdotto quest'estate a Roseto abbiamo già iniziato a riflettere su cosa fare il prossimo anno su quale modifiche a portare lo faremo in via definitiva dopo il 31 dicembre ma siamo già certi che gli stalli blu a Roseto continueranno così come continuano e sono presenti negli altri comuni della costa terramana e adesso apriamo la pagina dello sport partiamo ovviamente dalla Serie B perché questa sera si gioca il turno infrasettimanale si è aperta ieri la quinta giornata di Serie B con il pareggio 1 a 1 tra Avellino e Venezia questa sera alle 20 e 30 all'Adriatico Cornacchi il Pescara ospiterà la Virtus Sentella la squadra di Zemane a caccia di una vittoria che manca dalla prima giornata e dopo aver subito due dolorosi pareggi in rimonta mancheranno Palazzi Mancuso Latte Latte Campagnaro Selasi e Proietti in particolare quest'ultimo infortunato sia a Salerno rischia di stare fuori anche due mesi giovedì ci saranno gli esami strumentali che dovranno chiarire l'entità della distorsione al ginocchio riportata alla Rechi l'allenatore Boemo potrebbe portare Brugman davanti alla difesa e optare per Valzania a mezza alla sinistra oppure lanciare dal primo minuto Carraro in regia con l'uruguaiano tenuto sulla sinistra per il resto Zeman dovrebbe confermare i dieci undicesimi della squadra che ha impattato con la Salernitana con Capone e Del Son ai fianchi del capocannodiere del campionato Pettinari nell'entella il tecnico Castorina conferma il 4-3-1-2 Nizzetto favorito su Aramo per il ruolo di trequartista in attacco l'unico sicuro e Lupi mentre De Luca dovrebbe lasciare spazio a uno tra Diav e Lamantia direzione di gara affidata Marco Serra della sezione di Torino e vi ricordo anche che ovviamente seguiremo la partita con Diretta Stadio in studio Andrea Costantini in diretta dallo Stadio Adriatico Cornacchia Paolo Lorenzetti per il commento della partita e poi per le interviste dopo gara andiamo avanti con lo sport adesso la Serie C sarà Paride De Angeli di Abbiategras dirigere la partita fra Pordenone e Teramo in programma domenica prossima alle 14.30 allo Stadio Bottecchia due giorni fa la squadra di Asta ha conquistato la prima vittoria in campionato a spese del Ravenna tra i protagonisti della gara il capitano Ivan Speranza autore del secondo gol bianco-rosso di un miracoloso salvataggio sulla linea nel corso del secondo tempo e noi lo andiamo ad ascoltare è andata bene a livello personale ma quello che più mi imprema dire è che abbiamo fatto una grande prova di gruppo e volevamo questa vittoria a tutti i costi ci è visto lottando su tutti i palloni correndo mettendo cuore grinta per portare il risultato a casa e per fortuna siamo riusciti che comunque abbiamo fatto due partite Mestre e Vicenza due ottime prove comunque però alla fine siamo tornati con un punto quindi come dicevi tu a livello psicologico ci voleva proprio questa vittoria e ripeto l'abbiamo cercato in tutti i modi magari potevamo gestire meglio il vantaggio al secondo tempo potevamo fare qualcosa di meglio per per gestire il risultato magari chiuderla prima però c'è ancora tanto da migliorare ovviamente però però ripeto ci è visto quella la voglia di ottenere il risultato a tutti i costi e quella è la cosa importante dobbiamo seguire questa linea che ci porterà sicuramente dei frutti tenere comunque il pubblico dalla nostra parte è fondamentale perché per noi è molto ma molto importante soprattutto in casa lo si sente in maniera enorme ma anche lì quando siamo stati a Vicenza ci sono fatti sentire come sempre per noi ci dà una grande mano siamo felici che comunque ci seguono e spero che comunque riusciamo a portare più gente possibile allo stadio sì sì sarà un'altra partita difficile che ho Pordenone una squadra molto forte ovviamente ha obiettivi importanti obiettivi comunque per vincere il campionato quindi però dobbiamo andare così noi come stiamo giocando in queste partite che abbiamo fatto tre ottime prove quindi dobbiamo andare lì e fare la nostra partita come sempre senza senza paura in serie di prima vittoria in campionato anche per il Pineto che ha superato di misura l'Avastese decisivo il gol di Francesco Esposito che era tornato proprio la settimana scorsa a indossare la casacca pinetese dopo una breve parentesi al Gravina la soddisfazione del centrocampista ai nostri microfoni Roberta Di Sante Francesco Esposito un ritorno da incorniciare a Pineto subito in campo e subito arriva il primo gol Sì è stata una partita difficilissima noi lo sapevamo sono tornato qui a Pineto sapevo che i ragazzi venivano da due sconfitte ma ho trovato uno spogliatoio molto unito e con grande entusiasmo e oggi si è visto in campo questo entusiasmo l'abbiamo trasformato in voglia di lottare con grande sacrificio e poi è arrivato il gol sono stato molto contento questo ritorno a Pineto per me è stato tornare in una grande famiglia Insomma nella passata stagione sei stato giudicato come uno dei migliori torni e riesci subito ad integrarti all'interno di una rosa quasi completamente nuova Sì diciamo che la rosa la conoscevo perché comunque conosco molti ragazzi cui ci avevo giocato già anni passati e sono molto contento per quello che è accaduto oggi la vittoria per noi era fondamentale dopo due sconfitte è chiaro se oggi avessimo perso sarebbe stata durissima invece siamo stati bravi a lottare nel campo abbiamo sofferto molto la vastese è una scuola molto giovane che corre e ci ha messo in difficoltà però siamo stati molto bravi in fase difensiva Oggi una prestazione di grande carattere domenica arriverà ci sarà al San Nicolò un altro derby un'altra prestazione un'altra partita importante Sì ora ricarichiamo le pile da martedì prepareremo la partita col San Nicolò che è una squadra sappiamo tutti che gioca molto bene a calcio e ci dobbiamo preparare al meglio per dare continuità a questa vittoria che è molto fondamentale Adotto Breil centro polisportivo giovanile aquilano parteciperà ad una gara internazionale in Portogallo tra i partecipanti anche la campionessa Alessandra Susmeli che a 40 anni detiene ancora il record mondiale eroici i pattinatori aquilani che senza strutture portano avanti lo sport con orgoglio Una vita sui pattini quella di Alessandra Susmeli orgoglio e campionessa che dopo 14 anni ancora detiene il record mondiale nella specialità della maratona conquistato nel 2003 a Padova dopo l'ultimo mondiale master disputato all'Aquila ora la concentrazione è tutta sui mondiali che si svolgeranno ad ottobre in Portogallo dopo l'ultimo mondiale da master che ho fatto qui all'Aquila organizzato comunque dal CPGA da Mario Miconi e con un risultato diciamo buono un secondo posto adesso mi diciamo mi sto dirigendo verso questa gara internazionale che si farà in Portogallo ad ottobre certo questa sarà molto dura perché comunque non corro come master ma vado a correre come senior quindi ricorrere dopo tanti anni a livello internazionale con la massima categoria il livello è molto 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 alto però comunque in ogni caso metterò sempre il meglio di me a 40 anni la Susmeli dà ancora lezioni alle più giovani cresciuta nel centro polisportivo giovanile Aquilano in mezzo a tutte le difficoltà ben note che conosciamo relative agli impianti sportivi Alessandra Susmeli però vuole scrivere ancora e c'è una città intera che fa il tifo per lei questione di allenamento noi comunque siamo arretrati come già hanno detto precedentemente i ragazzi perché con gli impianti che non abbiamo con il livello diciamo chiusi quindi l'inverno non possiamo allenarci bene stiamo indietro con gli allenamenti e quindi sfruttiamo il meglio il periodo estivo per poterci allenare il più possibile e quindi arrivare ad ottobre nella massima performance è tutto per la prima edizione del TG6 il prossimo appuntamento con la nostra informazione alle ore 19 grazie per essere stati con noi vi auguro una buona giornata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti